ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di new super mario brus siamo falco e dix stavo dicendo siamo dix e falco questi v hanno fatto un bel balletto quindi non sicuro che qua non c'è giù destra giù giù destra 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 ah ok destra eh sì lo so che cos'è la destra ecco dobbiamo andare a questo livello a questo livello il mio livello ragazzi quella zona quelli siamo vive raggiungibili una terza parte l'uscita segreta che noi abbiamo fatto vedere nel livello in cui diciamo abbiamo fatto tutto fuorché finire il livello uccidendoci saltando le varie monete stelle tutti quanti mh mh bello torci brug no l'ho fatto intazzare si è buttato per ripicca si è buttato nella nel gelo nel gelo nel veleno stelle gratis eh non è giusto così stelle gratis non fa il cazzo stelle gratis ma dai prendo la vita così già invece l'hai perso ah ta schiattalo ta nooo saltando sul torcidio tipo le monete smettila ho detto smettila come vuoi una moneta stella ma la prendi tu e chissà chi è che ha buttato il copa che sarebbe servito per la moneta stella chi io no sto cazzo costazzo ora aspettami e ci vai tu no non ci vuoi prendiamo un copa aspetta aspetta stai per morire stai per morire tu stai per morire latte eeeh no no abitazzo ottimo inizio di xd ha recuperato una vita e io ne ho perse due mi sembra buono come cosa dai ne avevo 39 ma ne ho 40 io ne avevo 60 e ne ho 58 esattamente quello che ho detto ho 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 no dico ho rotondato il mio numero di vita ai funghi sono di tutti e due te lo vuoi rubare eh tofu come vuoi non ti aspetto no il fungo voglio un fungo solo per me un fungo solo per me aia no un nuovo film di falco bravo contro fracopani bravo ce n'è qualcuno c'è un piccolo segreto un piccolo segreto cosa che dix prima non aveva scoperto per correre capirà c'è solo una moneta stella puoi anche prenderla tu se ti va eh ok c'è stella una moneta sola c'è stola una stellella c'è stone eh l'avete visto voi io no non ti fare incazzare vola svolazza ta 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 mi raccomando uccidi il copa di capa aspettalo aspettalo il copa di capa ragazzi bisogna uccidere il copa di capa genio 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 sei un genio sei un genio toccati no cosa tocca a me eh no no tocca a te provare a prendere a buttare prendendo la moneta non tocca a me è già la seconda volta no aspetta 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 ci vado adesso putto ehi pensa via no cosa fai cosa falchi fa no 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 prende la vita fai cacchio fai cacchio fai cacchio ho lasciato 10 vite sul cacchio cambio corsa sui tronchi il nome del livello il livello del nome fungazzo fungo a fungazzo azzon pazzo questo è buono mangia mangia le stile mangia le stile passa in vantaggio passa in vantaggio passa in vantaggio passa dobbiamo tornare indietro deficiente ecco perchè l'avevamo persa prima già no dix proprio che aveva la stile ma io sono morto prima che vuoi giusto tu sei morto ora tocca a te andare ok se ti va puoi andare anche tu eh non è che sei obbligato ora posso salire contento e le vite di vantaggio di falco sono di nuovo 20 precise e puntuali puntuali e cointi wow giro giro tondo scoppia il mondo scoppia la terra e prendi quel cacchio non te lo volevo tirare caccafu 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 sei un bastardo ma hai visto no ma me l'avrò in dove io me l'avrò in sei un bastardo zix visse cacca e caccafu me l'avrò in due presa ci voleva ta aspetta mi hai essere tumore ci voleva ta aspetta 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 il me ti faccio ah non ti fai niente eh vai giù a prendere ora devi andare tu io sono bloccato esatto eh eh non volevo uccidere no 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 prendi come come vai salta saltate lì non ti prendi no no fungo perso capirà ok veramente mi culo che culo dis monete prendi le monete le monete prendi quello aia sei sento utile stai abusando un po' troppo del fatto che può diventare bolla quando vuoi se mi fosse altrimenti un joystick qui il 2 ricorrisponde ai comandi io quello l'avrei evitato non abbiamo ancora preso la bandierina che libera cacca no no tu sei mai fungo c'è mai mi punga il fungo stelle ha fungazza proprio eh lo sciuro al contrario eh nooo eh il fungo di prima c'è sempre queste cose geniale vai tocca a te tu verrai con me tu non puoi passare no tu non puoi passare esatto passare prima anche giusto andiamo avanti che senza falco senza falco senza falchi lasciamo di x in dietro mi hai fatti incazzare tutti mi hai fatti incazzare tutti li hai lì 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 qui no fermo fermo no guardate mi tolgo mi tolgo mi tolgo puoi lanciarla quando vuoi ora no fungo fungo vai veloce mi tazza fa un cu ma fa un fungo wow geniu 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 vedete in quanto tempo dix è capace di perdere le vite le viti io perdo le viti tu perdi le vite ecco io perdi power up aspetta togliti 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 nessuno mi ha tolto io mi ho saltato apposta per schivarti volevo beccare le piante sto fermo in un punto l'unico modo per farlo è saltarla ho fatto una kill doppia kill no il callone di akil il callone di akil no forza che dix pensavo che ci fosse un segreto ah ok vabbè c'è stato il mio fungazzo vai go go va troppo fung doppia akil perchè non ti posso uscire non puoi passare Ezio Ezio secondo me c'è qualcosa qua ecco vedi visto non l'avevi disco i segreti di dix disco hai sbagliato lato già è quello che mi avevo accolto avevo fatto ta 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 boom 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 eh allora entra entra nel tubo nel tubo non si può congelare più qualcosa nooo si è lanciato la sicuro devi coprirlo alla radice oh oh tumbazzo secondo me era quello di mezzo però più senza dover il segreto oh ta 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 no 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 devi arrivare alla fine alla fine alla fine nooo corri eh corri e mo vieni qua sotto vieni qua sotto vieni qui siamo un dixasto ok wow tubo al consario quello da quei brother esatto io continuo a fare movimenti poco comprensibili ciao ciao ma ciao mo togliti aspetta eh che grande cosa mi ho preso uno combo da uno oh ta tubo schiattami ti prego nel livello di Van Gogh già ho capito come funzionano queste cose io non mi le vero da più schiatti uno muo di due ta 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 funziona l'incorsa tdx dx dx eh dxalco no fungo no no non ci crede proprio 20 vite di distacco ancora 20 no prima erano 21 no ho guadagnato la vita andiamo a far vedere pure il segreto riuscito del livello sopra segreto riuscito oppure ci salutiamo per questo video credo che sia abbastanza adesso sblocchiamo la stanza la strada per il castello di browser di browser di browser però mozilla firefox scroll eccitazione mica era mia voluto no conosco solo browser conosco browser questi sono i ragazzi letterati che conoscono browser anche tedeschi tedeschi vabbè comunque ci vediamo nel prossimo episodio e vi faremo vedere il livello 7 e saluto a tutti in particolare a Lello Arena esatto lo salutiamo il nostro bello amico che ci segue dappertutto la foto apparirà penso dove sta girando quella navi in tutto esatto la foto apparirà lì e salutiamo anche il nostro amichetto Gianmarco Piangerelli che è il nostro grande fan segue tutto tutti i nostri video veramente siamo molto entusiasti di lui e salutiamo anche tutte le pagine amiche che condividono i nostri bellissimi video mentre Mario e Luigi si guardano intorno noi vi salutiamo ciao a tutti ciao